Siracusa, Ponte della Targia, Centro Storico Carlentini, il Governo regionale revoca finanziamenti. Il Governo regionale, con deliberazione del 14 gennaio, ha provveduto a rimodulare, cioè a ridistribuire le risorse per gli interventi ricomprese nel patto Area Tematica 2, Ambiente, Obiettivo Strategico di Sesto Idrogeologico, già stanziate nella scorsa legislatura. Ancora una volta ad essere sfogliata nel silenzio assordante di tutte è stata la provincia di Siracusa, che ha perso ben due finanziamenti ottenuti nella scorsa legislatura, con la seguente giustificazione. A seguito di ulteriori istruttori tecnico-amministrativa, dal momento che alcuni progetti non presentano i requisiti per ottenere l'IGV entro il 31 dicembre 2021, lo dichiara Vincenzo Vinciullo. Scompare definitivamente la parte rimanente del finanziamento del Ponte di Targia per 1 milione e 20 mila euro, cioè oltre un milione di euro, e nello stesso tempo viene revocato a Carlentino il finanziamento di 236 mila euro per le opere di reggimentazione e riduzione del rischio idrogeologico a difesa del centro abitato. Ricordo che a proseguito Vinciullo il finanziamento del Ponte di Targia era stato previsto per quasi 6 milioni di euro e con questa ultima revoca il Ponte rimarrà come un mostro di cemento per i prossimi decenni all'ingresso nord della nostra sfortunata città. Tutta questa vicenda, quello che colpisce e offende non è la protervia del governo regionale che continua a sottrarre risorse alla provincia di Siracusa, ma il silenzio complice di quanti dovrebbero difendere il nostro territorio e non lo fanno. Ancora una volta, ha concluso Vinciullo, la rappresentazione plastica delle tre scimmiette che non vedono, non sentono e quindi non parlano può rappresentare benissimo il panorama politico della nostra provincia.